Amici, buongiorno, buongiorno a tutti, sono Ale Frisani e questa è la quarta puntata radiofonica autogestita dal gruppo consigliare di Federazione Civica. Questa è stata una settimana molto ricca di eventi, eventi che hanno smosso la città sia da un punto di vista, sia in modo positivo che anche alcuni l'hanno lasciato, anche titubandi, anche noi stessi consiglieri, anche tutti i cittadini di Cerinoa. Vorrei proprio iniziare qui, dalla parte più nera, la parte più brutta, la parte più oscura di quello che è successo a Cerinoa, dal tentativo di corruzione al primo cittadino. Io non mi voglio dilungare perché ne è stato parlato parecchio in questi giorni, molti l'hanno anche ridondato, alcune persone, alcuni anche stessi consiglieri comunali hanno, diciamo, d'opposizione, hanno preso questo gesto che io lo reputo assolutamente normale, denunciare chi tenta di corrompere un'istituzione in modo assolutamente sciocco, in modo assolutamente insignificante, squalificante anche per Cerinoa e per la stessa amministrazione. E vorrei partire proprio da questa gente che ha anche attaccato, quasi attaccato, come se questo gesto è stato un gesto che poteva essere evitato, perché si è andato ad alzare un po' il barone, leggevo su Facebook, perché purtroppo mi dispiace dirlo, ma i nostri oppositori, diciamo, rifiutano il confronto all'interno del Consiglio Comunale, la Massima Assisi, e poi si fermano qui su Facebook. Io avrei, se fossi stato opposizione, avrei apprezzato il gesto del sindaco, perché se io faccio Mende Locale non mi ricordo e non ho mai letto che sono stati denunciati questi episodi qui a Cerinoa. Prima volta successo nella storia di un'amministrazione che denuncia questo tentativo, evita, e questo dà la dimostrazione della trasparenza, a differenza sempre delle medesime testate giornalistiche che hanno detto che il Consiglio Comunale a breve verrà sciolto perché ci sono infiltrazioni mafiose. Abbiamo dato la dimostrazione transibile che la mafia, diciamo, con noi sono assolutamente due cose diverse. La mafia, come la intendiamo noi, è lavorare per gli altri come la casa della solidarietà. Si vogliono definirmi mafioso perché ho aperto la casa della solidarietà, tanto di guadagnato. E come dicevo, abbiamo denunciato, il sindaco ha denunciato questo gesto che, io lo reputo, un gesto davvero, come posso dire, non insignificante, ma va a turbare, va a forzare la volontà di fare qualcosa che non si vuole fare. E quindi utilizzando qualunque mezzine, mezzuccio, in questo caso, come dice mia nonna, i soldi aprono gli occhi anche i ciechi, non è stato proprio il caso di farlo nella nostra amministrazione, questo tentativo di corruzione è abbastanza, totalmente, non abbastanza, totalmente squalido e giustamente denunciato. Io voglio chiudere questa piccola parentesi anche esprimendo, come ho già detto, tutta la piena solidarietà al sindaco. Vorrei chiudere questa parentesi e vorrei passare a ciò che di realmente bello viene fatto a Cerignola. Oggi, domenica 11 dicembre, attorno alla villa comunale, voglio iniziare da dietro fino ad arrivare più avanti dalla parte del corso. Iniziamo dalla parte posteriore del corso rispetto alla radio. Attorno alla villa, cosa sta succedendo attorno alla villa? Mercato, il primo mercato, il primo di uno dei due mercati natalizi che viene organizzato dall'agenzia comunale Cerignola Produce, dove il presidente è un mio consigliere che fa capo al mio gruppo consigliare di federazione civica Vincenzo Specchio, dei due consorsi, dei ambulanti Cerignola, Città, Mercato e La Cicogno. Cosa hanno fatto? Hanno dato la possibilità, l'ennesima possibilità, perché non so se qualcuno ci ha fatto caso, e quando dico qualcuno lo dico in modo sarcastico, per un mese abbiamo portato, che poi da gennaio riprendiamo, non è che ci siamo dimenticati, il mese di novembre è stato un mese abbastanza ricco, perché abbiamo portato a livello delle periferie di Cerignola, abbiamo portato i mercati. Questo come possibilità, io lo ripeto per l'ennesima volta, non per essere ridondante, ma periferie, io non amo definire periferie la zona più distaccata della città, abbiamo portato della Cerignola decentrata, diciamo, abbiamo portato i mercati come possibilità, mercati regionali, come possibilità di integrazione delle periferie, dei cittadini, della possibilità delle periferie di poter integrare, quindi di poter dare un servizio esterno, un servizio decentrato a livello delle periferie. Oggi cosa succede? Abbiamo portato a domenica 18 e oggi 11, il mercato a livello della villa, e al perimetro della villa. Questo perché? Abbiamo dato la possibilità di mostrare il vantaggio che l'area pedonale può avere. L'area pedonale, quindi, verrà chiusa dalla parte Fiorino, verrà chiusa da Fiorino fino al Barreale, lì sarà uno spazio chiuso. Ci sarà solamente un'area pedonale dove le macchie non potranno transitare. Allora, lo scopo qual è? Lo scopo è che abbiamo dimostrato l'efficienza di quest'area pedonale, il vantaggio che quest'area pedonale può dare, anche a livello dei commercianti, anche a Cerignola, perché noi vogliamo, anche questo lo ripeto per l'ennesima volta, vogliamo che i cittadini di Cerignola restino a Cerignola e vogliamo che le persone abbiano la possibilità di venire da fuori paese a Cerignola anche per farsi una semplice passeggiata. Lo vedo adesso, molti si spostano a Trani, soprattutto per l'estate, Trani, Barletta, adesso vanno a Candela. Noi stiamo cercando, andavano a Candela, noi stiamo cercando al villaggio di Babbo Natale che abbiamo anche noi il villaggio natalizzo qui a Cerignola. Ora noi cerchiamo di contenere qui, di far sì che Cerignola diventi una meta turistica e questo lo dimostra anche, adesso mi sposto dall'altra parte del corso, lo dimostra quello che sta avvenendo per quando riguarda città Cerignola Sposi. Cos'è Cerignola Sposi? Cerignola Sposi è una vetrina, una vetrina di Cerignola dove, definiamo la fiera più che vetrina, una fiera dove le associazioni e i negozi, le boutique che vendono prodotti per sposi, abiti da cerimonia di tutta la provincia sono qui, sono avvenuti qua a Cerignola. Vi voglio ricordare che Fiera Sposi, Cerignola Sposi era un progetto che si svolgeva prettamente a Trani, che si svolgeva nell'ultima settimana di novembre a Foggia, Cerignola è stata sempre bypassata, per diversi motivi che non vi sto qui ad elencare, però c'è stato sempre questo passaggio in avanti rispetto a Cerignola. Cosa sta succedendo? Succede che la fiera di Cerignola Sposi sta diventando un punto importante, è iniziata giorno 8 dicembre, termina questa sera circa intorno alle 21.30-22, terminerà, sarà l'ultimo giorno che abbiamo a Cerignola questa possibilità. Io quando sono stato qui alla fiera vi racconto delle sensazioni assolutamente positive della mia Cerignola, della Cerignola che a me piace, della Cerignola che io voglio si deve parlare. Molta gente fuori Cerignola, molti forestieri, hanno detto, parlando tra di loro, io riavo un po', dicono, io non mi aspettavo che Cerignola fosse questo. Una frase che a me ha assolutamente commosso, perché mi ha commosso? Perché io sono sempre abituato a leggere di Cerignola, della cronaca nera. Adesso leggevo su qualche testata giornalistica, leggevo Cerignola, l'università dei tagliatori delle auto. Una notizia che mi ha afflitto, perché odio quando si parla di Cerignola, sembra della parte, è prettamente della parte negativa di Cerignola, della piccola parte negativa di Cerignola. Perché Cerignola non è quello. Cerignola è città, Cerignola sposi, è quella Cerignola. La possibilità, stiamo dando la possibilità, l'opportunità alla nostra Cerignola, e anche ai Cerignolani stessi, e alle persone forestiere di venire a Cerignola e di far ammirare cos'è realmente la nostra città. Quindi Palazzo Coccia. Palazzo Coccia ha aperto le sue magnifiche sale, una sale di esposizione, potendo soddisfare i bisogni dei futuri sposi, ma non è un programma, non è pubblico, certo che è pubblico, non è organizzato dal comune. È una cosa pubblica, l'ingresso è assolutamente gratuito, e dà la possibilità alle persone di fuori paese, ai cittadini di Cerignolani, ai futuri sposi, di poter ammirare sia Palazzo Coccia, che in modo primario, anzi, secondario lo definirei ben in secondo luogo, sia la possibilità di far ammirare Palazzo Coccia, oltre che di guardare, l'obiettivo principale era anche quello di mostrare gli abiti da sposa alle future coppie. Quindi, tra il mercato che sta avvenendo attorno alla villa, si sta svolgendo attorno alla villa adesso, e tra Palazzo Coccia, al centro c'è il nostro magnifico Duomo Tonti. Nel magnifico Duomo Tonti abbiamo portato per la prima volta, nella storia di Cerignola, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, abbiamo portato ghiaccio, non ghiaccio, quel ghiaccio che è acqua congelata, no, è un ghiaccio costituito da un teflo e dà la possibilità per risparmiare, perché noi pensiamo anche, il nostro principio è quello di parsimoniare, e in modo tale da, dicevo, essere anche questa un'attrazione. Negli anni addietro ci si recava principalmente come metanatalizia a Candela, un piccolo paesino che da lontano sembra un presepe, e Candela ha sviluppato proprio questa potenzialità affinché potesse essere meta turistica. Abbiamo cercato, riflettendo anche a lungo, due ore è il nostro lungo, riflettendo a lungo, riflettendo per queste due ore, e quindi abbiamo creato questa idea, l'idea di portare a Cerignola l'opportunità di avere un villaggio natalizio, un villaggio natalizio che sta riscuotendo assolutamente un successo che io francamente non mi aspettavo, la pista di pattinaggio sul ghiaccio per la prima volta arrivata a Cerignola, sta avendo un successo assolutamente inaspettato. Sono felice, sono contento, anche come una sorta di gratificazione personale, guardare i bambini che apprezzano il tutto, guardare i genitori e sentire anche i genitori, io diciamo dai miei 24 anni mi fa piacere, non essendo né fidanzato né pure avendo una figlia, però mi fa piacere sentire i genitori che dicono finalmente qualcosa qui a Cerignola è arrivata, e io non devo avere il timore, la paura che mio figlio stia su una strada, si recchi a Bari, perché la pista di pattinaggio è più vicina a Bari, si recchi a Bari con tutte le paure e tutte le difficoltà che una strada offre, quindi io ho sotto controllo mio figlio, ce l'ho qui a Cerignola. Questa è l'opportunità, come dicevo prima, l'opportunità che un'area pedonale può dare, che una ZTL può dare. Molti definiscono sia l'area pedonale che la ZTL, io mi parlo quando parlo dei morti, parlo delle 11 persone che commentano e fanno politica su Facebook, poi li aspetto in consiglio comunale. Di quelle 11 persone, diciamo, il commento dico, è una limitazione alla città. Assolutamente falso, non andiamo a limitare assolutamente niente, andiamo semplicemente a dare la possibilità a Cerignola, la premettere, Cerignola è l'unico paese che non aveva, a breve lo avremo anche a Cerignola, ma stiamo sistemando gli ultimi dettagli burocratici, Cerignola era, e sottolineo, era l'unico paese che non aveva un'area pedonale, era l'unico paese che non aveva una zona a traffico limitato, ZTL, e noi stiamo dimostrando, è stata definita, sia la ZTL che l'area pedonale, una limitazione a Cerignola, noi stiamo dando oggi la dimostrazione come federazione civile, come amministrazione comunale, dagli eventi che abbiamo organizzato, stiamo dando la dimostrazione che non andiamo a limitare niente, anzi, andiamo a rendere Cerignola una meta turistica, turismo ridotto, turismo ridotto, qualunque esso sia il turismo, però abbiamo la possibilità di rendere Cerignola, io direi, mi permetterei anche di dire, uno dei fiori all'occhiello storici, uno dei fiori all'occhiello storici, avendo Torre Alemanna, che a breve, no, non ve lo voglio svelare, c'è un piccolo progetto anche su Torre Alemanna, le fosse granare, abbiamo il Duomo Tondi, quindi stiamo dando la possibilità, alle persone di fuori paese, di venire a Cerignola, e di guardare queste bellezze, anche Palazzo Coccia, di guardare queste bellezze nostrane. Cosa è successo anche in questa settimana? In questa settimana, per la prima volta nella storia, nella storia di Cerignola, nella prima storia delle amministrazioni cerignolane, è stato approvato il bilancio di previsione in giunta. qualcuno può dire, vabbè, cosa c'è di così tanto straordinario? Qual è il vantaggio che può trarre Cerignola, dall'approvazione del bilancio, un anno prima rispetto all'entrata in vigore? Ebbene, vi voglio raccontare una storia. Io sono stato nominato consigliere comunale il 31 luglio, il 31 luglio 2015, il 30 luglio 2015, scusate. Dopo qualche giorno mi arriva una diffida, io leggo questa diffida, questa diffida così era, intimava il prefetto, intimava di approvare il bilancio, entro 30 giorni, previa scioglimento del Consiglio Comunale. Questo perché è successo? Perché l'amministrazione precedente, l'amministrazione Giannate, così come anche l'amministrazione di Valentino, quella di Giannate in Bangora, quella sinistra, quella destra, quella sopra e quella sotto, avevano la barbara abitudine di approvare il bilancio di previsione dell'anno corrente alla fine dell'anno. Noi ci siamo trovati nel 2015 a dover approvare il bilancio comunale a settembre del 2015, di previsione del 2015 a settembre. Scelta assolutamente dovuta a quella del 2015, abbiamo approvato perché in un mese e mezzo stilare un bilancio di previsione per una città di 60.000 abitanti è assolutamente impossibile. abbiamo approvato il bilancio che i soggetti, gli amministratori della precedente amministrazione avevano stilato. Noi lo abbiamo approvato. Cosa è successo nell'anno 2016-2017? Noi abbiamo il 3 dicembre, il 4 dicembre è stato approvato in giunta il bilancio di previsione per l'anno 2017. Quindi noi dal 1 gennaio 2017 avremo la possibilità già di conoscere quali sono i capitoli. I capitoli sarebbero una sorta di portafoglio da poter utilizzare, di somma da poter utilizzare per gli interventi che possono essere l'intervento del mando stradale, sul ripriso del mando stradale, all'illuminazione, al verde. Noi abbiamo la possibilità quindi di conoscere già oggi quali sono i capitoli che abbiamo, quali capitoli abbiamo e quante somme e quanti soldi ci sono all'interno di questo capitolo. E tutto questo già dal 1 gennaio. Si ridurrà la possibilità di dire purtroppo non conosco, non sappiamo quanti soldi abbiamo perché non andremo più a ragionare in dodicesimi ma ragioneremo sull'effettiva quantità di soldi che noi abbiamo. Questo è stato approvato in giunta. Adesso dovrà avere l'approvazione definitiva in Consiglio Comunale il Consiglio Comunale giusto ve lo dico in anteprima verrà intorno al 22 di dicembre dove si parlerà dell'ospedale dove si parlerà della situazione sia della situazione della sicurezza e ci sarà l'approvazione definitiva del bilancio di previsione. Cosa avverrà a Natale? Natale per noi collaborando anche con l'assessore ai servizi sociali con il vice sindaco Pezzano come è nostra prassi definiamo la prassi da lui l'abbiamo presa con la prassi lavorare per la solidarietà costruire un programma per la solidarietà a Natale Natale avverrà la da domani diciamo da domani inizieremo domani in questa settimana va non mi voglio spingere molto sulle nostre potenzialità in questa settimana inizierà la raccolta degli alimenti diamoci una mano una raccolta di alimenti che verranno donati alle persone meno agiate non voglio chiamarle in modo diverso dalle persone meno agiate saranno portati presso la casa della solidarietà e dalla casa della solidarietà verranno distribuite a tutti coloro che si recheranno presso la casa della solidarietà Gino Sorbo mi fa segno che abbiamo terminato il tempo io avrei voluto parlarvi anche di altro però mi premeva ah giusto questo Gino scusami ma mi premeva anche ricordare che la solidarietà viene fatta anche dall'associazione di volontariato appunto per questo è la Croce Rossa oggi sta facendo una racconda a volte donando vendendo vendendo ovviamente tra virgolette dei dolci dei dolci natalizi e il regavato verrà devoluto tutto in beneficenza io vi ringrazio per avermi fatto compagnia per avermi ascoltato e vi auguro anche un buon proseguimento di giornata grazie mille e buona giornata a tutti grazie 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 a tutti.